Sì, la tutta notte. Hillary Clinton trasforma in una vittoria mediatica l'audizione alla Commissione Parlamentare Speciale su Benghazi, messa sotto torchio per 11 ore dai suoi inquisitori repubblicani sull'attacco al Consolato degli Stati Uniti in Libia dell'11 settembre 2012 in cui persero la vita l'ambasciatore Chris Stevens insieme ad altri tre americani. L'allora segretario di Stato non ha fatto una piega. Nessuno ha pensato alla chiusura, ma aveva due ambasciatori che hanno inviato diverse richieste. Questo è quello che è accaduto alle loro richieste. Sono state strappate. Ero a capo degli ambasciatori di tutti i paesi del mondo. Ero il capo degli ambasciatori anche in Afghanistan, dove appena prima di una delle mie visite l'ambasciata era stata brutalmente assaltata dai Taliban. Sono ben consapevole dei pericoli che si trovano di fronte ai nostri diplomatici, ma non c'è mai stata alcuna raccomandazione da parte di Chris Stevens o di chiunque altro di chiudere Benghazi. Con la corsa per la Casa Bianca in mente, Clinton è stata molto attenta a non scivolare. Si è assunta la responsabilità in quanto capo della diplomazia di Washington, ma non ha mai ammesso di aver commesso errori. I 17 mesi e 14 milioni e 300 mila dollari spesi per questa commissione di inchiesta non sono serviti a far emergere elementi nuovi su Benghazi. Lo ha ammesso, alla fine, anche l'agguerrito presidente repubblicano della commissione, tra i godi.